Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video Oggi siamo sulla divisione, siamo ancora in divisione 8 Ho fatto due partitelle, una l'ho persa e una la pareggiata Ma siamo ritornati di nuovo in divisione 8 Questa è la squadra, ho comprato Menez per 5100 crediti Dovrebbe essere bello forte E poi ho comprato Maurizio per la difesa E perciò troviamo un avversario 3 ore come sempre per trovare un avversario Perché ogni volta che devo registrare ci vuole 3 anni Ci si farà? Non lo so 50, oh oddio ci si è fatto a trovarne uno Stemma della Roma adesso, italiano questo è di sicuro Andiamo, Pisaiz Bravissimo Sì questo è di desti, italiano di sicuro C'è le maglie della Roma, lo stemma della Roma, tutto Perciò guardiamo le squadretta C'ha Italiana, eh Infatti Guizzadriano Perisic Chi cazzo è? Ecco lì sì Perisic Amsic Sturaro Super giù anche la gente che c'ho io Nella squadra 79 di vado sulla stazione Ma C'ho quasi tutti oro Io e c'ho meno di vado sulla stazione di lui Boh vabbè Guardiamo Vediamo se riusciamo a vincere Almeno questa partita per fare 3 punti subito Speriamo di sì Ferma Ferma Luezza Adriano Ferma Yao Falche Niamo Goulam Vaffan Sì Oh non mi dà rigore Ah meno male non è rigore No perché questo Quest'arbitro di merda è capace anche di darmi rigore subito Ora Vai Il decimo minuto Non è nada Sì Vabbè vai Sai Campione di Calci di punizioni Guarda il gol d'ha fatto Questo qui Vaffanculo vai Tanto ormai non mi cazzo neanche più Perché tanto Cioè così ha fatto un gol di punizione Cioè io Lo so solo l'uomo Ha fatto a fermo Oddio Chesney Meno male Sì ma Chesney Cazzo dio Marchetti Sono abituato a quell'altro portiere Senti Bravo Ma io Io ho questo joystick Arriverà a fine anno Di stand Per me no Io lo spacco prima Perché se condivano a giocare a questo gioco di merda Lo spacco prima Ma Ma Marchetti Ma dov'era 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 Coglione Coglione Precisione Dai 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 Grandissimo Tira Maiala e gol Grandissimo Palo Palo E gol Che destra Biabianini Compratevelo subito perché Biabianini è troppo forte Io E' uno dei migliori ciottori che c'ho Un artiste Biabianini Ve lo dio C'ho comprarevelo subito Dai Palo E gol Maiala Bellissimo gol Ferma Questo Cazzo è Ma è tiro bravo Che fenomeno Ha fatto un tiro E' questo Andiamo fischio arbitro Fischia E finisci il primo tempo Le statistiche sono queste Andiamo avanti Andiamo a messare a questo secondo tempo Vai Gabbiadini Vai Gabbiadini Grandissimo Vai Gabbiadini Ancora Gabbiadini Gabbiadini ancora Che mostro Che mostro 2 a 2 Che mostro Che mostro Gabbiadini E' un mostro Questo qui Cioè quest'anno Mi hanno fatto troppo forte Gabbiadini Cioè E' andato via Benissimo Li A tenare la fioscina Che mostro So che bestia è lui Novantesimo Fermo Vai Sturaro Vai Stur Non era meglio se non andavi Sturaro Che gol di merda ha fatto Lo sa solo lui Io boh Non c'ho parole Andiamo Andiamo rinvia Ma ma vaffan Ma era ai rigori Si vabbè Era ai rigori Ma vaffanculo vai Dai ragazzi Per questo video Può finire qua Perciò Ci becchiamo Al prossimo video Della divisione E finisce 2 a 2 Perciò Al prossimo video E buona a tutti Ciao